Come state non solo scommesse in questo periodo ma anche calcio mercato e finalmente anche calcio giocato Commentate qui sotto, lasciate un bel like e iscrivetevi qui, attivate la campanella, arriviamo presto a 20.000 iscritti Dovete essere iscritti per partecipare al contest e vincere la maglia di Rafa Leao Scaricate l'app di Morodiezza da questo link, seguite su Instagram e Maybe Maglia e portate qualche iscritto al nostro canale YouTube In bocca al lupo Allora ragazzi, è già in rosa il Milan, ma non è del Milan Ma il Milan vuole che diventi un giocatore del Milan a tutti gli effetti Parliamo di Alex Gimenez, giocatore di 18 anni, spagnolo alto 1,71 O basso 1,71, diciamo così, facciamo una battuta Terzino destro della primavera del Milan Che è in prestito al Milan? Lui fin qui ha fatto un campionato con quattro partite Una di Coppa di Primavera, due di Youth League senza segnare e senza fare assist Però sta dimostrando delle qualità notevoli, soprattutto in fase di spinta Nonostante il fisico è uno che va, si butta e ha delle qualità davvero interessanti in fase di proposizione là davanti Anche se a livello numerico non ha fatto né gol né assist Al Milan sta piacendo molto Il Milan vede lui un progetto di un futuro terzino destro molto interessante E sta pensando di provare a acquistarlo L'intenzione del Milan oggi sembra quella di provare a riscattarlo C'è un riscatto che è fissato a 5 milioni di euro per l'estate Dal Real Madrid, perché lui è del Real Madrid Ma il Real, puntando su di lui, ha mantenuto un diritto di recompra A un prezzo superiore Che quindi riconoscerebbe al Milan una sorta di premio di valorizzazione Qualcuno ipotizza anche il fatto che lui avrebbe posto arrivare anche in prima squadra Da quello che risulta a noi non è all'ordine del giorno Ma non è da escludersi che prossimamente magari possa fare un salto in prima squadra Dove però oggi con Calabria, Florenzi e anche Calulu Sulla destra siamo abbastanza coperti Attenzione però perché il Milan vuole comprarlo E a quel punto sta al Real decidere se lasciarlo Oppure esercitare la ricompra Con il Milan che avrebbe un premio di valorizzazione Lo state seguendo? A me piace Ha fatto vedere di essere un bel giocatore E a volte è intenibile quando dice va e parte e mette il turbo Dittimi che ne pensate se è un giocatore da promuovere in prima squadra O se è futuribile magari per il prossimo anno Real permettendo Il Milan però vorrebbe confermarlo Quindi vorrebbe esercitare quei 5 milioni di euro di riscatto Che ne pensate? Scatenatevi qui sotto, commentate Iscrivetevi, arriviamo presto a 20.000 iscritti Provate a vincere la maglia di Rafa Leao Un saluto